In questa edizione del MADE presentiamo le soluzioni antisismiche per l'edilizia, un argomento di grande attualità, in particolare i materiali compositi con fibra di carbonio e fibra PBO che con matrice cementizia ci permettono di portare in sicurezza le strutture in calcestruzza e muratura. La novità è il sistema X-Plaster V-System che ci consente di fare interventi antisfondellamento certificato per mettere in sicurezza al fuoco e alla portata tutti i solai che a causa del sisma o dell'anzianità soffrono di problemi di antisfondellamento. Con la stessa soluzione possiamo anche preparare lastre armate per il consolidamento della muratura antisismico.